Buonasera e ben ritrovati. 20 dicembre per raccontarvi e parlarvi della novità Match Color che vi avevo annunciato qualche settimana fa. Siamo pronti ed operativi con tutta la gamma dei colori spot. Per colori spot che cosa voglio dire? Voglio dire che da oggi in poi tutti i nostri clienti possono ordinare i colori in base alle loro esigenze. In base alle loro esigenze perché? Eh sì, perché avete la possibilità finalmente di ordinare il colore spot, cioè quella tinta esatta che vi occorre per realizzare quella cromia. Quindi ci mandate il vostro colore di riferimento e noi in 7-10 giorni siamo nella condizione di fornirvi lo stesso colore che avete in macchina ma in condizioni spot. Quindi profilazioni, dimenticate tutto perché con il colore spot voi avete oggi realmente la possibilità di lavorare come non siete mai riusciti a fare perché ogni volta chiaramente che dovete arrivare ad un colore magari un po' leggermente fuori scala o fuori gamma diventa un problema diciamo regolarizzare la macchina e le produzioni. Bene, con la gamma dei colori spot match color questo non succederà mai più. E oggi a tal proposito, visto che siamo in quasi Natale, vi raccontiamo il primo colore spot sul quale abbiamo lavorato. Il primo colore è il rosso. Quindi sono orgoglioso di presentarvi il nostro colore rosso spot. Quindi non magenta ma rosso. Rosso perché? Perché nel momento in cui voi avete come colore spot il rosso, avete poi la possibilità con la vostra quadricromia di fare tutti gli aggiustamenti che volete, magari sovrapponendo del giallo piuttosto che del nero, piuttosto che un altro magenta che voi avete in qualche modo studiato. Questo che vuol dire? Vuol dire rivoluzionare. Questo vuol dire uscire con dei colori che non esistono. Allora, qui io ho 16, 16 punti di rosso, uno diverso dall'altro. E vi assicuro che non sono rossi facili da ottenere. Per quanto apparentemente molto vicini, perché condividono lo stesso colore spot, ma parliamo di rossi completamente diversi. Cioè parliamo di fuori gamma controllati. Fuori gamma controllati. E quindi è chiaro che diventa estremamente semplice poter lavorare con delle scale cromatiche, diciamo, diverse, ma partendo da un colore imposto, cioè il vostro colore spot. E qui a fianco a me vedete chiaramente degli esempi di rossi completamente diversi. Quindi dei rossi dove veramente ci siamo divertiti. Babbo Natale del 2020, cioè Babbo Natale quest'anno in Poligraf ha portato questo, il rosso che non c'era. Quindi non magenta ma rosso. Quindi la possibilità per tutti voi di ordinare il rosso di cui avete bisogno. Ma è chiaro che il rosso, voglio dire, è una cosa che abbiamo voluto per raccontarvi la nostra capacità di formulare il colore. Perché avendo, come dire, il controllo completo delle nostre chimiche, per noi diventa possibile e oggi anche facile ascoltare le vostre richieste. Ma chiaramente questo vuol dire anche poter ascoltare la moda. Per esempio nel mondo della pelle, rosso bellissimo, è inutile dirvi quanto quest'anno si è lavorato tutto intorno al rosso, chi fa tendenza, chi fa, come dire, l'avanguardia nella moda, quanta attenzione si è avuta per il rosso. Ma abbiamo creato le basi e i presupposti per poter affrontare il nostro 2020 con i colori di cui avete bisogno. Perché sapete benissimo che il 2020 sarà l'anno del blu e noi per blu avremo la possibilità di ascoltare tutte e dico tutte le vostre esigenze di blu. Perché grazie alla capacità di formulare gli inchiostri oggi vi daremo e potremo soddisfare i vostri ordini di blu senza chiedere a nessuno di impazzire sui vari materiali e le varie rispondenze colore per poter ottenere magari il blu che il cliente desiderava. Credo che anche questo sia un passo avanti, sia un spostare l'asticella sempre più verso l'alto perché la nostra visione è questa, migliorare le nostre performance per ascoltare le vostre esigenze nel cambiamento dei prodotti. Un grazie e auguro a tutti un buon Natale. Grazie.